Per commentare Luca, una partita che probabilmente nessuno si aspettava, ti chiedo semplicemente cosa è successo? È difficile da analizzare, eravamo partiti anche bene, i primi dieci minuti abbiamo preso un palo, eravamo stati pericolosi, poi abbiamo preso gol La partita si è incanalata, poi è andata male, abbiamo preso tante ripartenze ed è finita male, c'è solo da lavorare, testa bassa, stare zitti e lavorare Ti chiedo se sai le condizioni di Luca Mora? No, no, non penso sia, non ho idea, è in ospedale per fare gli accertamenti, però non so cosa sia Colpo al collo dopo lo scontro con Milani, hai centrato il problema Luca perché hai detto delle ripartenze, dopo i primi dieci minuti dove c'è stato il palo di tupte, il colpo di testa di ingrosso Poi non riuscivate mai a costruire, però subivate sempre quando il Foggia vi prendeva e arrivava in area di rigore, perché? Non so dare una spiegazione, sicuramente la analizzeremo nei prossimi giorni e ne parleremo, però non so come mai Arriviamo sempre lì gli ultimi 30 metri e poi abbiamo preso, ripeto, tante ripartenze, però non so dare una spiegazione Tu in questi due giorni non sei attirato da sirena di mercato, resti a Pescara? Sì, io non ho mai manifestato il volere di lasciare Pescara, non c'è mai stato nulla, io sono concentrato su Pescara e basta